Oggi vediamo come l'apparato a fogliare del tappeto erboso non è in grado di assorbire solo i sali minerali preziosi per il suo metabolismo, ma può anche essere il recettore migliore per l'assimilazione di biostimolanti vegetali studiati per nutrizione tecnica in caso di stress. Quali sono i migliori biostimolanti vegetali usati per il tappeto erboso? Fondamentalmente sono due, gli idrolizzati proteici o chiamati anche aminoacidi e gli estratti di alghe. Gli indispensabili aminoacidi li potete trovare in Vital Plus. La pianta è fatta da aminoacidi. Tutti gli organi foliari, rizomi, stoloni, radici sono fatti di tessuti vegetali costituiti da proteine e le proteine sono fatte a loro volta da aminoacidi. Senza aminoacidi non è possibile aumentare la massa verde del prato e in condizione di particolare stress termico, idrico o patologico, è possibile fornire direttamente aminoacidi al tappeto erboso aiutandolo in condizioni di forte difficoltà. Quindi gli aminoacidi nutrono il tappeto erboso, lo stimolano nella crescita, ne aumentano la cronofilla e il contenuto di azoto nelle foglie. Difendono il tappeto erboso da stress abiotici come per esempio eccessivo calore, la siccità, la salinità o la bassa luminosità. Inoltre è stato dimostrato che gli aminoacidi stimano l'attività microbica nella ridosfera che ne migliora la crescita del tappeto erboso. Seaforce invece è un prodotto a base di alghe marine brune e in particolare di ascofilum nodosum. È ormai risaputo che le alghe marine sono ricche di carboidrati e alginati e inoltre sono ricche di fitormoni naturali e in particolare contengono auxine e giberelline. E sono proprio questi ormoni ad avere azione biostimolante. Aumentano la crescita per distensione cellulare, promuovono la divisione cellulare negli apici radicali e aumentano di conseguenza l'accumulo di sostanze di riserva, stimolano l'espansione della lamina fogliare e ritardano la selescenza delle foglie basali, oltre a favorire l'apertura degli stomi. Sono questi i due biostimolanti che Tempo Verde consiglia per la nutrizione antistress estiva. Arrivederci a presto!